Il Montegiorgio del nuovo corso Brini affronta il secondo turno casalingo consecutivo dopo l'1-0 al photo finish sul Nereto al Tamburini arriva un'altra compagine abruzzese, la vastese di Fulvio D'Adderio che strizza l'occhio alla zona playoff distante appena due punti. I marchigiani oggi in maglia bianca confermano il tridente d'attacco con Rucci e Marchionni ai lati di Perpepai, out per squalifica Santoro. La vastese si affida all'esto sudamericano di Alessandro che si posiziona largo a sinistra nel 4-3-3 disegnato da D'Adderio. Dirige Campagni di Firenze in parità 1-1 il match di andata. Il primo tempo si traduce in una lunga fase di studio, al 31esimo Omiccioli rischia un clamoroso autogol il Tamburini, suda freddo e l'unico sussulto di una prima parte di gara deludente, tutti negli spogliatoi sullo 0-0. D'Adderio inserisce Stivaletta al posto di Alonzi, Stivaletta che si sistema largo a sinistra con Alessandro prima punta. Proprio Alessandro al 61esimo ha sul destro la palla del vantaggio per la vastese, Gagliardini chiude la saracinesca e respinge. Nasce poi una mischia senza esito davanti alla porta del Montegiorgio. Brini richiama in panchina Rucci e Donzelli gettando nella mischia Rigen e Montanaro. Al 67esimo chance per Marchionni, Altobelli rimedia puntualmente in scivolata. Al 70esimo Stivaletta sfrutta un'indecisione di De Meio e si coordina rapidamente per la conclusione. Gagliardini è bravo a tenere lì il pallone. Brini gioca la carta Zerbo in evidenza nel secondo tempo contro il Reneto, fuori Marchionni. Cresce la vastese nel tratto finale della gara, l'ottantesimo Altobelli da fuori aria non va, lontano dall'incrocio dei pali. L'equilibrio comunque non si spezza fino al triplice fischio finale. Le due squadre dividono la posta in palio. Il Montegiorgio muove la classifica e comincia a metabolizzare le idee di Mr. Brini. L'assenza di conclusione in porta fa però riflettere sulla mancanza di lucidità, qualità e peso specifico negli ultimi 20 metri, elementi sui quali l'ex tecnico dell'Ancona è chiamato a lavorare molto. La vastese squadra di notevole tasso tecnico ha prodotto senza dubbio un volume di gioco e di occasioni inferiore rispetto agli standard abituali. Sentiamo gli umori della dopogara. Abbiamo regalato un tempo un po' per l'adattamento al campo che è veramente indecoroso. Non si può giocare una palla a terra. E poi anche per il vento che ci siamo invece di avvantaggiarci nel primo tempo ci ha reso la vita difficile perché abbiamo cercato sempre di calciare lungo invece dovevamo fraseggiare. Il secondo tempo è stata un'altra partita dove abbiamo creato, ha avuto occasioni dove poteva andare nettamente meglio contro una squadra che comunque è una buona squadra. Potevamo, penso, fare meglio e portare a casa dei punti maggiori. Ma penso che il tema di queste partite è sempre creare ma non realizzare. E questo ci dispiace tantissimo per la nostra classifica che potrebbe essere nettamente migliore e anche per alcune partite che puoi portare a casa e poi non ci riesci. Anche se devo dire che il portiere loro ha fatto molto bene. È un brodino. Brodino, quando uno sta male, un mangio il brodino. Mister Brini, un punto che dà continuità in questa fase della stagione e raccolto contro un avversario comunque forte e di alta classifica. Credo che ieri abbia spiegato che tipo di partita andavamo incontro. Cioè di una vastese che è organizzata per ambire a traguardi diversi e oggi lo hanno anche dimostrato. Però noi, d'altro canto, dovevamo cercare di limitare quelle che erano le potenzialità di questa squadra e credo che l'abbiamo fatto. E forse con un pizzico di coraggio in più potevamo anche creare qualche pericolo a la vastese. Abbiamo visto rispetto al Nereto una squadra comunque più sciolta che si proiettava meglio in verticale e forse manca quel qualcosa in più negli ultimi 20 metri sia nella rifinitura che nella conclusione. Mancano i punti che sono quelli che poi ti danno anche la spregiudicatezza, ti danno anche il coraggio di fare determinate cose. Purtroppo noi dobbiamo continuare e cercare di fare più punti possibile in queste partite che rimangono. Però è vero quello che ha detto, da partita di mercoledì qualcosa, soprattutto nel primo tempo, siamo riusciti a lavorare in una maniera che mi è quasi piaciuta. Il secondo tempo è stata una partita un po', non voglio dire con palloni alti, però una partita un po' più con tensione.